Buonasera, buonasera, buonasera. Piccola introduzione prima di arrivare al video di oggi. Voglio promuovere la mia pagina Ask. Ask è un sito che permette di farmi domande anonime, oppure non domande. Mi volete dire qualcosa? Però vi vergognate, avete paura? Potete farlo in forma anonima su Ask. È un sito che è fatto apposta per quello. Primo link in descrizione. Ask, mi chiamo Mr. Nichelista, anche lì. Mi potete fare domande o dire quello che non mi avete mai detto, che però vi vergognate di dirmi in privato su WhatsApp o su Facebook. Buonasera dalla voce di chi non ha voce. Mi raccomando, metti un bel pollice in su e condividi il video. Ok? Confido in te. Grazie alla mia assistente, veniamo a noi. Io ieri ho ricevuto sotto un video un commento che recitava quanto segue. Sì, però siamo proprio alla fiera della banalità. Ma vaffanculo. Ecco, io quando leggo commenti di questo tipo rimango incredula, perché mi chiedo una cosa innanzitutto. Ma che senso ha guardare un video? Magari reputarlo banale e mettersi a scrivere Sì, ma siamo proprio alla fiera delle banalità. Ma vaffanculo. Ma perché guardarlo questo video? O se oramai il danno è fatto, l'hai già visto? Che senso ha andare a sottolineare la presunta banalità? Cambia aria. Trovi i miei video banali, non guardarli. Che senso ha sottolineare un qualcosa che non è che entra a casa tua in maniera soffocante? Perché se io autocostringessi ogni italiano a guardare i miei video potrebbe essere normale una reazione, no? Se non di gradimento i miei contenuti. Ma siccome uno va a ricercare, va a aprire i miei video, basta semplicemente non farlo. Questo sottolineare la presunta banalità di un video su YouTube è proprio di una stupidità unica. Seconda cosa. La fiera della banalità. La fiera dell'ovvio. Pensare significa problematizzare l'ovvio. Sono le cose più importanti quelle da analizzare. Proprio perché per colpa delle cose considerate ovvie che non si mettono più in discussione che il mondo va a rotoli. Ha proprio un'influenza sulla nostra vita. Per esempio, ci sono dei dogmi, delle frasi che nessuno mette più in discussione. E non sono solo frasi, sono proprio delle mentalità che poi ti condizionano alla vita. Per esempio, il lavoro è un valore. Certo, il lavoro è un valore. Come fai a negare una cosa simile? Il lavoro è un valore. Ma perché è valore? Ci hai mai pensato? Tu lo dici perché i tuoi genitori te l'hanno detto, perché la società te l'ho inculcato. Se non lavori vali poco, se lavori vali tanto. È un dogma, tu devi riflettere. Ma perché? Basterebbe un attimo mettersi a pensare e capire. Ok, però alla fine una persona, se io incontro una persona nella vita, il suo spessore umano, dato al fatto che lavora o che non lavora, può risultarmi gradevole una persona se non lavora? Beh, sì, se ha certe qualità, sì. Può risultarmi sgradevole lo stesso una persona che lavora? Sì, beh, in effetti allora non è ciò che valorizza la persona. Al massimo può essere utile alla società, ma i valori sono altri. Oppure, il tradimento è una cosa orribile. Il tradimento non si perdona. È una cosa che hanno in bocca a tutti, fin da piccolo. Il tradimento è orribile, chi tradisce non va perdonato, il tradimento è mancanza di rispetto, ma anche questa fase, il tradimento è mancanza di rispetto. Il tradimento è tradire la fiducia. Ma ci avete mai riflettuto? O è un dogma? Che cosa vuol dire? Andare a letto con un'altra è tradimento. Ma chi l'ha detto? Rifletteteci perlomeno. Non sono certo che per forza non debba essere così, perché non è che ragionare vuol dire mettere in discussione nel senso di negare tutte le cose accettate, ma significa rifletterci. Dire, fare sesso con un'altra è tradimento, è una fesseria. Perché innanzitutto dipende se le due persone si erano promesse fedeltà. Perché è così folle l'associazione che magari due persone non si sono promesse fedeltà, solo una coppia aperta. Ma tu consideri tradire unicamente per quella persona, se vedi che ando con un altro, perché associ la parola tradimento all'atto sessuale. Mentre il tradire c'è se non rispetti un eventuale patto. Se loro due erano consapevoli non c'è nessun tradimento. I tradimenti sono nella tua testa. Ma anche ove non ci fosse un patto, veramente si deve dire che il tradimento non va perdonato. Molti direbbero no, non va perdonato, ma non ci hanno mai riflettuto, non hanno mai messo in discussione quella cosa. E perché ti condiziona nella vita anche, poi una mentalità del genere? Perché poi magari decidi, no, ti lascio perché mi hai tradito, oppure giudico una persona, se lavora o non se ne lavora, e magari ti perdi le cose veramente importanti. Quella persona che non lavorava poteva darti tanto, quella persona che hai lasciato in quanto ti ha tradito, magari si tiene veramente a te, ed è una cosa che non significava realmente nulla, e la relazione poteva continuare allo stesso. Non sto dicendo per forza, però per lo meno valutare da caso a caso, comprendere che non si deve essere così radicali, perché ci sono tante sfumature, tante motivazioni, tante modalità. Ecco perché dirmi, tu Enrico parli dell'ovvio, è una grande qualità, e dirmi in senso negativo, parli dell'ovvio, va a fa' un culo, significa essere delle gran capre. Bene, perché ci sono dei punti interrogativi qua? Perché oggi volevo anche proporvi il mio profilo A, la mia pagina Ask. Se andate in descrizione, c'è il link della mia pagina Ask. In ogni caso, io su Ask mi chiamo Enrico Capacci, anzi, controllo subito perché non sono sicuro, controllo in diretta. No, no, che dico, scusate. Su Ask mi chiamo Mr. Nichilista, quindi scrivete Ask Mr. Nichilista, e potete farmi domande anonime. Magari se qualcuno che si vergogna chiedermi delle cose sotto, su Whatsapp, su Facebook, potete chiedermelo in forma anonima, ok? Ask in descrizione, comunque Ask Mr. Nichilista, e io rispondo anche alle domande anonime.